Sarebbe tempo di ferie, di mare e di spiaggia. A San Gimignano però non sembrano essersene accorti perché per ascoltare il segretario PDG Line sono accorsi a decine, giovani e meno giovani, a sostegno di Elli, come hanno intonato al suo arrivo. Un amore ricambiato tra foto e abbracci, nonostante per i DEM siano settimane da barricate tra l'impegno per il salario minimo. Siamo pronti al confronto sul merito e difenderemo la nostra proposta, che è un'ottima proposta perché rafforza la contrattazione collettiva, fa valere verso tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative e mette una soglia fondamentale sotto la quale non si può scendere perché altrimenti non è lavoro. E le contestazioni per i tagli al PNRR. In particolare si toccano 13 miliardi di risorse che dovevano essere destinate ai comuni e non si capisce con quale logica, visto che i comuni stanno spendendo bene e in fretta quelle risorse per migliorare la vita delle proprie comunità, migliorare le infrastrutture, ammodernare il nostro paese. Sesh Line è il faro che ha acceso una delle serate della Festa dell'Unità, dietro c'è un movimento che ha fatto in modo che questo evento non si sia perso. Ogni sera circa 70 volontari che impiegano le loro serate per gestire la festa, è un momento di grande socialità, di grande convivialità, di ottima gastronomia, ma anche e soprattutto ovviamente di buona politica. A San Gimignano sono arrivati a quasi 60 edizioni, all'insegna di volti storici che ogni anno non si tirano indietro, ma anche tanti nuovi volontari. Qualsiasi cosa ne facciamo per cercare di raccogliere la comunità intorno a quelli che sono i valori del Partito Democratico e più in particolare anche i valori della democrazia è un passo avanti.